ciao sono luca e mi chiamo luca età 53 anni e niente questa testimonianza la voglio fare perché molto importante perché mi ha salvato la vita e comunque mi ha reso un ragazzo felice perché devo grazie al dottore antonini che veramente il numero uno al mondo niente avevo problemi di elezione e invece lui mi ha risolti in modo eccezionale e da quando io ho fatto questo intervento che lui mi aveva promesso e ha veramente veramente mi ha risolto il problema mi aveva detto che me l'avrebbe risolto me l'ha risolto in modo veramente eccezionale perché adesso riesco a avere rapporti anche due tre volte al giorno quattro il pene va bene mi sento sicuro qui stato sicurezza e un consiglio guardi che è un consiglio che io vorrei dare a tutti quelli che hanno avuto il mio stesso problema e di rivolgersi senza vergogna al dottore antonini perché veramente è una persona eccezionale ed è anche un chirurgo eccezionale io mi sono trovato benissimo lo consiglio a tutti perché è un dottore che risolve il questo problema che per noi maschietti è molto importante quindi io sono sereno felice soddisfatto veramente sono stato e sono molto contento di aver incontrato il dottor antonini perché è stato fin dall'inizio una persona molto cara quando io ero disperato e adesso vedermi così che sto così bene essere soddisfatto ad avere rapporti soddisfacenti molto soddisfacenti vedere la mia compagna felice e tornare dal dottore dirgli queste cose credo che è una bellissima cosa sia per me che ho risolto il problema è una grande cosa anche per il dottore che chiaramente avere questa testimonianza da parte mia anche lui si rende felice soddisfatto molto tantissimo ecco quindi niente io saluto a tutti un abbraccio a tutti consigliando che se avete qualche problema o problemi di questo genere di erezione di insomma problemi sessuali di rivolgersi al dottore Antonini lo consiglio a tutti vivamente perché è un dottore eccezionale che vi risolverà il problema al cento per cento e vi saluto un abbraccio e salve buonasera a tutti orgasmo è meglio di prima il pene eretto in modo stupendo e la cosa più bella è che la mia compagna è soddisfatta e lei me lo conferma e quindi è tutto dire c'è una cosa meravigliosa grazie a tutti grazie a tutti